Sfide nel deserto, la determinazione di Mir e la disillusione di Quartararo illuminano il Qatar. Cari appassionati benvenuti in questo nuovo video su The Sport News. Prima di addentrarci all'interno del video di oggi, ti ricordo di iscriverti al canale e di lasciarci la tua opinione all'interno dei commenti qui sotto al video. Inoltre siamo anche su Telegram. In descrizione al video trovi il link per iscriverti al nostro canale. Nel fulgido deserto del Qatar, sotto un cielo incantato dalle luci artificiali del circuito di Lusail, Joan Mir, il guerriero maiorchino della MotoGP, ha disegnato con la sua onda una storia di coraggio e ambizione, chiudendo al tredicesimo posto il Gran Premio del Qatar. Una posizione che però nasconde un racconto di sfida e speranza, un duello contro il tempo e gili avversari che ha visto Mir sfiorare il soglio della Coppa Giappone, quella classifica non ufficiale ma tanto ambita tra le moto nipponiche, dominatrici di un secondo gruppo agguerrito ma ancora lontano dalla vetta. Con un gap che lo separa ancora dai vertici della competizione, Mir ha raccolto nei suoi occhi l'immagine di una Honda rinnovata, un bolide che sotto le sue mani ha iniziato a mostrare segnali di un risveglio, una promessa di battaglie future in cui l'ambizione di vincere non è mai stata così palpabile. La RC213V, infatti, si è presentata ai nastri di partenza del 2024 con un volto nuovo, frutto di un lavoro intenso e di un cambiamento di filosofia che ha iniziato a fare breccia nel cuore dei piloti. Tuttavia, la corsa verso la vetta è un percorso irritato di difficoltà. Il campione del mondo non ha esitato a spingere oltre i limiti, cercando di conquistare il primato della Coppa Giappone. Ma il prezzo da pagare è stato alto. Un consumo eccessivo delle gomme che nelle battute finali lo ha costretto a cedere il passo a rivali come Fabio Quartararo e Johan Zarco, rinunciando a un sogno che sembrava a portata di mano. Mira ha raccontato con passione questo viaggio sul filo dell'audacia. Un'avventura che lo ha visto partire dalla diciottesima posizione per poi danzare con i leader, un balletto ad alta velocità che ha illuminato il deserto con scintille di pura adrenalina. Ho superato molti piloti, ero vicino ai primi, potevo vedere il gruppo di testa. Mi sono divertito, ho lottato per la Coppa Giappone, ero addirittura in testa. Ma nel finale l'ottimismo ha lasciato spazio alla realtà, ha confidato Mir, un gladiatore del tempo moderno che non teme di rivelare le sue emozioni. Nel cuore della notte del Qatar, tra il rombo dei motori e l'eco dei sogni, Mir ha lasciato trasparire una luce di speranza, un desiderio ardente che la Honda possa continuare su questa strada, una via ricca di insidie ma che porta alla gloria. Con uno sguardo rivolto al futuro, il pilota spagnolo ha invocato un rinnovato impegno, una spinta costante verso l'innovazione, per lasciarsi alle spalle la Coppa Giappone e navigare verso orizzonti dove solo i campioni osano sognare. E così, nel silenzio del deserto, risuona l'eco di una sfida, il battito di un cuore che non si arrende, la storia di Joan Mir e della sua onda, pronti a riscrivere il destino, pagina dopo pagina, curve dopo curva. La stagione MotoGP 2024 è appena iniziata, ma il racconto di coraggio, passione e innovazione ha già trovato la sua voce, un inno alla perseveranza che riecheggia sotto le stelle del Qatar. Sotto il cielo stellato di Lusail, tra le sfide ardenti del primo fine settimana di gara della stagione MotoGP, emerge una voce carica di frustrazione e disillusione. Quella di Fabio Quartararo. Il talento francese, armato di grinta e passione, ha dovuto affrontare una realtà amara a bordo della sua Yamaha, chiudendo l'appuntamento catariota in un'undicesima posizione che sa più di sconfitta che di competizione. Il duello serrato con Zarco e Mir non ha fatto altro che gettare luce su un abisso che sembra essersi spalancato tra il costruttore giapponese e le agguerrite rivali europee. «Più lontani che mai!» tuona Quartararo, le cui parole risuonano come un martello pneumatico sul cemento delle certezze Yamaha. Il suo è un resoconto senza veli, un'analisi impietosa che scuote i fondamenti del team giapponese, evidenziando un divario crescente rispetto a Ducati, KTM e le altre potenze europee del motociclismo. La stella di Nizza non nasconde il proprio disappunto per i piccoli miglioramenti, che paiono irrisori di fronte al passo da gigante compiuto dai competitor, lasciando Yamaha a rincorrere ombre sempre più lunghe e inafferrabili. Quartararo, con il cuore appesantito da una lista di richieste lunga e complessa, mette a nudo le vulnerabilità di una M, uno che sembra essersi smarrita nel labirinto dell'evoluzione tecnologica. «Non è questione di un unico problema, ma di un mosaico di criticità», spiega, delineando un quadro in cui aerodinamica, motore, degrado delle gomme ed elettronica sembrano tessere di un puzzle disordinato, un enigma che Yamaha fatica a comporre. Nel teatro del deserto, dove ogni errore viene amplificato e ogni debolezza esposta senza pietà, il pilota francese si è confrontato con una realtà ineludibile. Il degrado rapido degli pneumatici, una spada di Damocle che ha minato ogni sua ambizione, costringendolo a misurare ogni manovra, ogni sorpasso, con una cautela che sa di resa. Prima di proseguire con il video, ti ricordo di iscriverti al canale e di lasciarci la tua opinione qui sotto nei commenti. Eppure, nel profondo del suo spirito combattivo, Quartararo non smette di cercare risposte, di interrogarsi sul perché di una sprint meno competitiva, sul perché di un divario che non fa che allargarsi giro dopo giro. La sua analisi, lucida e impietosa, chiude con una missione difficile ma necessaria. Nonostante gli sforzi, Yamaha sembra navigare in acque sempre più turbolente, lontana dal porto sicuro della vittoria, in un mare agitato da rivali sempre più veloci e determinati. In questo racconto di passione e amarezza, Quartararo e la sua Yamaha si ergono come simboli di una sfida che va oltre la pista, una lotta contro il tempo e l'innovazione che non ammette sosta. La stagione è appena iniziata, ma il cammino verso il riscatto appare già costellato di ostacoli. Resta da vedere se il talento indomito di El Diablo e la storica resilienza di Yamaha sapranno trovare la chiave per tornare protagonisti in un mondo, la MotoGP, che non perdona.